ciao natasha grazie di essere qui con noi e tu come titolare di baby bazar laglio questo mese o meglio il mese scorso hai raggiunto un risultato fantastico e hai battuto ogni record storico di baby bazar raggiungendo un venduto di quasi 60 mila euro hai mai pensato di raggiungere un risultato del genere quando hai aperto no così probabilmente no però sapevo che probabilmente avrei raggiunto qualcosa di grande quello me lo sono sempre sentita fin dalla da quando ho scelto deciso di aprire il mio negozio perché sentivo poi di essere portata di essermi affidata al franchising che volevo perché ripeto non è stata una scelta così banale di affidarmi a leutron ea baby bazar proprio perché avevo scelto il cosa ma non il con chi e quindi questa questa decisione maturata non in modo molto semplice quindi ho scelto quello che secondo me era il franchising migliore che mi poteva dare gli strumenti migliori per poter realizzare il mio sogno perché in fin dei conti otto anni fa era un sogno adesso è realtà ma otto anni fa era un sogno e quindi da una parte no perché il risultato eccezionale non mi rendo conto probabilmente nemmeno io del risultato sì perché me lo sentivo già che avrei fatto qualcosa di bello e di grande bene e visto il risultato che hai ottenuto hai pensato di farti un regalo vuoi hai pensato di fare un viaggio chi non sogna di fare un viaggio certo poi soprattutto perché avendo comunque con mio marito già dei figli quando ci siamo conosciuti non ci siamo mai potuti permettere una decenza di viaggio quindi erano tutti parchi acquatici e spiagge con parchi divertimento quindi l'anno prossimo andiamo alle Maldive anche per festeggiare i nostri dieci anni di matrimonio bello proprio un bel viaggio ci sta anche perché lui è stato molto complice lui mi ha aiutato tanto quindi lui è parte fondamentale comunque del negozio è quindi bisogna essere una bella squadra per avere un negozio così e per funzionare a proposito appunto di squadra tu non sei da sola nel negozio hai comunque dei collaboratori con cui lavori a stretto contatto tutti i giorni quanto è importante per te il lavoro di squadra e anche creare lo spirito di lavoro di squadra con la squadra giusta è fondamentale completamente fondamentale avere un team una squadra in linea che creda in quello che in cui credi tu che ognuno con la sua capacità ognuno con la sua il suo modo di lavorare ma che tutti sappiano fare tutti tutti consapevoli dei risultati tutti consapevoli di quello che possano fare ma è fondamentale veramente avere una squadra tutti per lo stesso obiettivo tanto che per me è molto importante anche premiarli perché tutto torna se tu li premi avere un team felice un negozio che lavora persone che arrivano a casa la sera soddisfatte di quello che hanno fatto e di averci creduto e di essere stati parte del successo del negozio è fondamentale le mie ragazze è come se fosse loro il negozio per loro come se fosse loro lavorano come se fosse loro e quindi i risultati si vedono anche per quello tra le varie cose che il franchising fa per supportare i negozi tipo il sito e commerce oppure incontri periodici su zoom o la pubblicità il supporto marketing o il supporto per il visual merchandising quali pensi sia le cose più importanti che ti vengono messe a disposizione e che ti permettono di raggiungere i risultati che stai raggiungendo allora un po tutto in verità ed è uno dei motivi perché ho scelto ripeto questo questo franchising non smetterò mai di dirlo perché è fondamentale veramente perché secondo me da soli è molto difficile molto molto difficile ti devi affidare un po come dicevamo prima a una squadra in negozio vincente ma deve essere una squadra vincente anche che ti supporta se no è difficile perché ognuno al suo poi sono tante le cose da fare quindi giusto che ognuno faccia il suo ed affidarsi ad una squadra vincente già è un bel sai già di essere comunque sia con delle spalle belle coperte sicuramente comunque il sito il sito è fondamentale poi se è fruibile fatto bene ti dà modo veramente di essere conosciuta di vendere online velocemente di comunque sia essere comunque sempre all'avanguardia e essere sempre moderne perché è molto importante in questo periodo essere veloci e moderne molto 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 importante e secondo me è il sito oltre al e-commerce ti vediamo anche tanto attiva anche sui social come riesci come riesci a gestire anche tutto questo lato social e quanto ritieni sia importante poi il lato social anche legato sempre a come dici tu una necessità di modernizzazione allora il lato social è cresciuto tantissimo e indispensabile un po tornando anche al discorso di prima avere comunque delle collaboratrici sul pezzo quindi non può arrivare dappertutto assolutamente quindi ognuno un po si occupa al meglio di determinate versioni un pochettino del negozio però avere una persona che si dedica può sembrare una perdita di tempo ma assolutamente non lo è anzi è vitale per il negozio quindi avere una persona che segue i social in questo momento associato ripeto al sito associato a tutte queste cose è importantissimo in questo periodo dove lasciamo perdere magari questo momento che magari di chiusura delle città che magari ancora di più sollecita le persone a gestire tutte le cose online l'età il modo di fare delle persone ormai è diventato online completamente online quindi c'è stato un cambiamento notevole da quando io ho aperto ma veramente se devo pensare un po quando ho aperto la differenza che c'è adesso è veramente una differenza abissale e il social seguire social avere una persona dedicata completamente a questo ti fa un buon 30 per cento di negozio di fatturato di negozio e visto che hai hai citato il fatto che negli ultimi tempi le modalità anche di interazione con i clienti sono cambiate anche grazie all'introduzione dei social tutte queste cose qui ma hai notato nell'ultimo anno un cambio di mentalità da parte dei tuoi clienti o un ringiovamento cioè comunque una variazione in termini di età da parte di chi frequenta il negozio guarda ne parlavo giusto con mio fratello poco tempo fa avevamo visto insieme una perché sempre di più poi in televisione parlano di usato ci sono dei servizi anche piuttosto grossi su canale 5 su dove si parla veramente di negozi dell'usato io lo si è completamente stravolto il mondo dell'usato è passato da un fa bisogno è passato da una moda un'idea un un credere quindi è completamente cambiato un po come quando scegli una griffa e ti affezione un po la stessa identica cosa quindi non è di non è più un bisogno perché costa meno e posso avere la stessa cosa meno completamente il contrario lo voglio fare perché mi piace figo è proprio cambiato il trend mi rendo conto che non è più è proprio una scelta adesso e sempre di più noto questa cosa soprattutto anche a livello di clientela io ho gente che potrebbe benissimo non avere bisogno del negozio dell'usato e lo fa perché lo vede una scelta intelligente in cui ci crede e perché gli piace gli piace anche acquistare proprio gli piace acquistare online scegliere le cose dal sito gli piace proprio è più un fatto proprio di scelta per di piacere Nel mondo dell'usato in Italia i mercatini applicano degli sconti automatici quindi una volta che è terminato il periodo di esposizione è applicato automaticamente uno sconto sul prezzo Devi Bazar ha voluto fare una scelta diversa quindi una scelta più ispirata al mondo del retail del nuovo e una scelta che ha eliminato gli sconti e ha portato avanti le promozioni Qual è il tuo pensiero in merito e come hai visto questo cambiamento anche all'interno del tuo negozio? Ci colleghiamo un pochino al discorso un po' che ho fatto prima nel senso che quando è stata proposta questa idea sono stata subito completamente d'accordo Perché l'ho da subito vista una cosa magari un po' azzardata ma che poteva essere vincente E infatti dopo poco tempo si è comunque rivelata la scelta vincente perché gli sconti danno l'idea un po' come dicevo prima di regalare un po' l'avanzo Quindi quell'idea un po' brutta che ci può essere magari del negozio dell'usato e che dove effettivamente pochi effettivamente acquistavano in questo range di acquisti veramente con prezzi irrisori Quindi ha dato subito l'idea di negozio dove non c'è dove non ci sono i pezzi che sono lì per essere quasi regalati Quindi dava proprio l'idea di un negozio, quindi non svendere, di non regalare, quindi l'idea proprio di negozio Quindi mi è piaciuta proprio questa idea tanto che effettivamente dal mio punto di vista e penso di avere avuto il risultato alla mano Si è rivelata da subito vincente, da subito un'idea vincente Natascia, nel mese di settembre il tuo negozio ha vinto una sfida importante Riuscendo ad attivare oltre 700, a fare 700 attivazioni, 700 livelli gialli E solo per quell'operazione lì hai incassato più di 3600 euro di servizi E sei arrivata ovviamente prima in questa challenge e ti sei distinta rispetto a tutti i tuoi colleghi Spiegami un pochino com'è andata, raccontami un po' come avete fatto ad ottenere questo risultato Allora ci conosciamo un po' da Alessandro, sai che per me le sfide, quando poi mi lancio una sfida del genere Io faccio il possibile per, non per vincere, l'idea non era vincere ma era prima di tutto mettere alla prova le mie ragazze E quindi questo è stato molto bello perché se tu crei loro degli obiettivi Diventano, sono invincibili veramente, il mio staff se io loro credo Ragazze dobbiamo fare questo, veramente diventano invincibili Sono molto molto brave in questo, quindi penso di averle educate molto bene in questo Quindi se c'è un obiettivo, se c'è una sfida, se c'è qualcosa che lo si può raggiungere Bisogna avvicinarsi il più possibile a quell'obiettivo E ci si deve credere perché ce la fai, ce la fai Io penso di essere veramente l'esempio La mia idea era, ed è una cosa che ho sempre pensato comunque nel mio negozio Ma da quando l'ho aperto Non creare differenza tra venditori e compratori Il venditore deve comprare, il compratore deve vendere Per me è fondamentale questo Quindi io devo avere questa dinamica, assolutamente Non deve essere divisa Quindi il mio obiettivo era creare un qualcosa che era legato soprattutto a un venditore Farla comprendere a un compratore Ed era questa più che altro la mia sfida Non tanto il raggiungimento dell'obiettivo a livello numerico Ed è stato veramente molto gratificante Perché si può, puoi Se tu hai il metodo giusto, il modo giusto di proporre queste cose Di far diventare, ripeto, un compratore Un potenziale venditore E di conseguenza anche il contrario Basta Hai capito come essere vincente in questa attività Natascia, che cosa ti piace di questa attività? Rapprendaci un po' il rapporto poi anche che hai con i clienti Quanto ti piace anche trasmettere la passione che tu comunque investi nel tuo negozio e in questa attività? Allora, la cosa che mi piace di più, ma perché è più legata a quello che sono io Io sono sempre stata una venditrice Quindi ho venduto dall'abbigliamento alle scarpe Dall'ultima mia esperienza facevo liste nozze Quindi vendevo liste nozze E quindi questa è stata la mia ultima esperienza Sono una venditrice nata Quindi mi è sempre piaciuto comunque vendere un qualcosa che una persona potesse ricercare Ma a livello vero Cioè tu hai bisogno di una qualcosa Io ti vendo la miglior cosa che tu vuoi al miglior prezzo E con Baby Bazar ho potuto farlo Perché non erano prezzi standardizzati Erano prezzi stabiliti da me E vendevo quello in cui credevo perché l'ho ritirato io Quindi è veramente il raggiungimento di tutto quello che io potessi fare Quindi è stato veramente il raggiungimento del sogno che io avrei voluto Quindi il vendere, l'acquistare al prezzo che dico io Che secondo me è corretto Quindi in modo serio, in modo comunque sia consapevole Tanto che se poi lo vendi vuol dire che il prezzo è consapevole, è giusto E quindi la cosa che mi piace di più è proprio il vendere Vedere le persone che si fidano di me L'essere limpidi, l'essere comunque seri Quindi avere, ripeto, le persone che si fidano di te E che tornano da te perché si sono trovati bene Perché si fidano di te E si è diventato un riferimento per loro E quando poi i clienti, per i clienti diventi un punto di riferimento Non c'è lockdown che fermi niente Perché a Bergamo c'è stato un lockdown della Madonna Eppure la gente è tornata Anzi, più forte di prima E questo veramente mi ha dato la consapevolezza di capire Che ho fatto un lavoro fatto bene Che la gente, se tu ci credi e le tratti bene E sei seria, tornano E penso che non ci sia risultato migliore Di vedere una cliente soddisfatta Se ha venduto o se ha comprato E che continua a tornare Da anni e anni Ultima domanda Se una coppia di tue amiche Venisse da te E ti chiedesse Qualche consiglio per aprire un Baby Bazaar Che consigli gli daresti? Allora, crederci Prima di tutto Perché Devi crederci fino in fondo Devi essere consapevole di quello che è Perché non è un lavoro facile A me spesso capita Che figo il Baby Bazaar Mi piacerebbe aprirlo Ma non dico quotidiano Ma settimanale Quindi c'è un lavoro dietro Un lavoro non indifferente Non è un negozio dove tu entri Compri e te ne vai Quindi si deve creare veramente del feeling Con il cliente che viene Quindi devi essere portata per questa cosa Devi essere consapevole che non è un lavoro facile Quindi è un lavoro che ti porta via del tempo Ma che ti dà un sacco di soddisfazioni Tante, tante Lo consiglierei Con criterio però Non è una passeggiata Aprire un negozio dell'usato Non è una cosa che dici Non so cosa fare Apri un negozio dell'usato È una scelta di vita Quindi è una scelta di vita Che ti condiziona tutta la vita Perché poi tutto gira intorno a quello In modo anche piacevole Perché poi È bello È proprio bello il mondo dell'usato È proprio bello la gente che lo frequenta Quindi lo consiglierei Forza, cioè bene Fa anche piacere poi avere Le persone che abbiano voglia di investire in questo Perché è un bellissimo mondo Non solo il mio negozio dell'usato per bambini È proprio il mondo dell'usato È proprio bello Bello e moderno Perché sai che a me piace questa cosa qua Soprattutto perché adesso Le mie clienti cominciano ad abbassare l'età E io invece mi sento un po' più alzata di età Quindi devo contrastarla questa cosa Però ecco, è un bellissimo mondo Bello Di buttarsi in modo consapevole Ecco Bene, dai Ti lasciamo al tuo lavoro E ti ringrazio tanto Ringrazio Grazie mille ragazzi Porta i miei complimenti a tutto il tuo staff Ti mando un bacio Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao